... Evaso dal carcere uruguayano dove si trovava in attesa di estradizione, il boss soprannominato Tamunga è finito in manette in un albergo di Joao Pessoa. Stiamo parlando di Rocco Morambito. È ricercato per reati, oltre che di natura societiva, anche per narcotraffico. Rocco Morambito che viene arrestato nel 2021 nell'ambito del progetto ICAN da Ross dei Carabinieri perché cade in una cyber trappola costituita dai colleghi della Polizia Federale Australiana e dall'FBI statunitense. Rocco Morambito è stato latitante per quasi metà della sua esistenza, oltre 23 anni, prima di essere arrestato nel 2017 all'interno di un hotel nella località di Punta dell'Este dove viveva con tutti i comfort, villa con piscina, segni, auto, cellulari, carte di credito ed un particolare che oggi non diventa casuale, un passaporto brasiliano. Sulle sue spalle pende una condanna a 30 anni di reclusione per associazione mafiosa e traffico di sostanze stupefacenti tra il Sud America e Milano. Appartenente alla famiglia mafiosa dei Morabito di Africo, per lui il periodo più prolifico è quello a cavallo fra gli anni 80 e 90, quando, dopo gli studi all'Università di Messina, i suoi affari si spostano su Milano. Diventa narcotrafficante di riferimento della città lombarda e quando sente odore di manette fa perdere le proprie tracce. Il resto è storia nota, la lunga latitanza, l'arresto, l'evasione ed ora la nuova cattura. Con Morabito è stato arrestato anche Vincenzo Pasquino, latitante originario di Torino che lui ha inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi. Il 2019 Morabito Rocco evade dal carcere di Montevideo con una fuga roccambolesca. Tres di los quattro reclusos che fugaron della ex carcere del central lo hicieron saltando da la azotea di Jefatura, qui ubicata in la calle San José, a un balcone di un edificio lindero. Il mafioso saldría por il sexto piso, da lì passaria il techo di un supermercato, da lì entra un appartamento e allì lo staranno esperando complici listi per terminare la fuga. Lui era stato precedentemente arrestato nel 2017 dalle autorità uruguayane e mentre aveva dei documenti falsi faceva una vita assolutamente regolare, facendosi imprenditore nelle più belle città del Uruguay. Si ritiene viaggiando anche per altri paesi dell'America, in particolare con il Brasile. L'orgullo che nos dà il poter annunciare che il lavoro silenzioso, metodico, che llevò la polizia e la fiscalia, fuero los que lograron la ubicación de este delinquente en el Brasile y que por lo tanto será estraditado a la República de Italia. Nella cooperazione internazionale di polizia, alle volte, è più una dichiarazione di principio che una realtà. Questo progetto, che invece era orientato molto alla concretezza, ha portato oggi ad arrestare 43 latitanti di indrangheta in giro per il mondo. Voglio veramente ringraziare sentitamente tutti gli operatori, Polizia Giudiziaria Uruguayana, Brasiliana, Ikenne, Vittorio Lizzi, Interpol Uruguayana, i miei carabinieri del ROS centrale di Locri e di Reggio Calabria, che costantemente sono stati in collegamento con i corrispondenti dei paesi interessati alla fuga del Morabito. La procura di Reggio Calabria attiva il servizio centrale del ROS, e in particolare il mio reparto, quindi il secondo reparto investigativo, poiché tanti anni che operiamo in questo settore e abbiamo un rapporto consolidato, direi in alcuni casi anche fraterno, con funzionari della DA e dell'FBI, li abbiamo coinvolti. Magari i colleghi del Sud America conoscono meglio il Primero Comando della Capitale, il Partito Vermeglio o il cartello di Sinaloa. Noi dobbiamo far comprendere che oggi una delle mafie, player mondiali del narcotraffico, è l'andrangheta e abbiamo costituito questa rete e parlano da soli i risultati.